Grazie a tutti, buonasera Mr. e Mattia subito chiedendole cosa ne pensa della manifestazione. Bellissimo, veramente bello. Complimenti all'organizzazione, complimenti a Marco De Marchi, amico oltre che bravissimo ad organizzare questa manifestazione. Squadre di grandissimo livello, veramente bello, siamo felicissimi di essere qua. Non siamo felicissimi dei risultati che abbiamo ottenuto in queste prime due partite, però per quanto riguarda la manifestazione davvero complimenti. Veramente bella, una bella vetrina per i settori giovanili. Grazie, è la prima volta che partecipate a questa manifestazione? Sì, 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 è la nostra prima partecipazione. Volevo chiederle cosa trasmetterà chiaramente al suo rientro in società di questa esperienza. Beh, innanzitutto ringrazierò la società di averci fatto partecipare a questa manifestazione, perché, beh, a parte noi, ma che contiamo relativamente, credo che per questi ragazzi confrontarsi con varietà tra le più forti e assoluti in Italia e in Europa sia una cosa speciale. Quindi, più che noi, sono i ragazzi che dovrebbero veramente dire grazie, in questo caso al Sassuolo, alla società, perché ci hanno fatto partecipare a questa bellissima manifestazione. Ultima domanda, volevo chiederle un parere riguardo al risultato, un parere tecnico della sua scuola. Dovevamo e potevamo fare di più. È chiaro che i risultati poi condizionano sempre i giudizi, anche a livello giovanile, però sia ieri che oggi non abbiamo messo in campo tutto quello che invece in questi ultimi mesi in campionato avevamo fatto vedere. Questo un po' mi dispiace, perché questi ragazzi sicuramente meritano, meritavano qualcosa di più. C'è ancora l'ultima partita domani, ce la vogliamo giocare, per carità, ce la giochiamo, ce la giocheremo alla morte anche domani, però queste due sconfitte penalizzano oltre maniera. Chiaramente i ragazzi devono capire che se abbiamo perso è esclusivamente colpa nostra. Ripeto, non abbiamo portato qua quelle belle cose che negli ultimi mesi in campionato avevamo fatto vedere. Questo un po' mi dispiace, in cui una vetrina così importante potevamo e dovremmo fare qualcosa di più. E auguro uno in bocca al lupo per la partita di domani e la ringrazio di partita. Viva il lupo, grazie.